insieme a me il capitano dell'ISEL allora oggi cosa è mancato? oggi è mancato un po' di fortuna un po' di fortuna, ce la siamo giocata per 45 minuti benissimo siamo stati in vantaggio 2 a 1 poi di me c'è stato uno subadione difensivo tra me e il portiera abbiamo subito il 2 pari e poi siamo crollati peccato perché oggi eravamo in palla poi qualcuno ha deciso di scappare dalle panchine ad andare a farsi la doscia prima del termine della fine quella è stata una cosa non simpatica anche perché qualcuno doveva andare a lavorare mentre qualcun altro credeva di non rientrare più in campo e ahimè un giocatore si è infortunato e quindi siamo rimasti senza cambi peccato, sarà per la prossima sapete contro che giocate la prossima? credo sia il Megolo il Megolo si ragazzi allora in bocca al lupo e intanto buona serata crepi il lupo e buona serata a tutti ciao